Ciao a tutti! Guardate un po' cosa prepariamo oggi, le faccine di patate, delle patatine che i miei figli adorano e per questo ho deciso di realizzarle in casa così da renderle più genuine e anche più economiche. Non saranno magari belle come quelle acquistate al supermercato ma sono davvero buonissime. Dai, iniziamo a prepararle! Iniziamo la preparazione partendo dalle patate già pelate, lavate e ridotte in cubetti. Dovremo cuocerle in acqua bollente salata per circa 15 minuti. Scoliamo quindi le patate e le riduciamo in purea utilizzando un apposito schiacciapatate o se lo preferite utilizzando semplicemente una forchetta. È importante però ottenere un composto ben fine. Alla purea così ottenuta aggiungiamo quanto basta di sale in base ai vostri gusti e quindi l'amido di mais. Lavoriamo quindi con un cucchiaio con una forchetta fino ad ottenere un composto ben omogeneo incorporando completamente l'amido. Dovremo ottenere questo risultato. A questo punto non ci resta che formare dei tocchetti da circa 25 grammi ciascuno. Ogni tocchetto andrà ridotto in una pallina e disposto su una teglia. Dovremo quindi appiattire ogni pallina così da creare un disco. Utilizzando una cannuccia facciamo due fori così da formare gli occhi delle nostre faccine. In questo modo. Utilizzando invece un cucchiaino andiamo a formare il sorriso delle nostre faccine. Proprio così. Eccole qui le nostre faccine. Le faremo riposare per almeno un'ora in freezer. Terminato il riposo si saranno ben indurite per cui potete o disporle all'interno di un sacchetto e conservare in freezer o friggere in olio di semi ben caldo fino a farle dorare su entrambi i lati. A quel punto le scoliamo dall'olio e le passiamo su un foglio di carta assorbente. Una volta pronte le nostre faccine di patate andranno portate a tavola quando sono ancora ben calde. Ora come sempre vi lascio il riepilogo di tutti gli ingredienti e vi do appuntamento alla prossima. Ciao! Per preparare le faccine di patate serviranno 500 grammi di patate 50 grammi di amido di mais quanto pasta di sale. la trovi su tuorlorosso.it e vi do appuntamento alla prossima a voi un bel piano e vi do appuntamento alla prossima per qualche tempo per cui arrivo l'attacco e vi do appuntamento alla prossima anche per un po'